Eh? Guarda l'alettorola Eh, Fatoma! Fatoma! Fatoma non ti ho fatto Fatoma non ti è la mia Fatoma non ti ho fatto che è il loro Daniele che dicevo e che è il loro Daniele a supervisiona e che ne si tratta e che non se ci sono non ci sono ma non c'è questo è il loro Daniele ma non si può non sa che ci fosse non si è non si è Donno se deptha, ma mi ha ingentuito! Donno se trasmesso! Donno se trasmesso! Non c'è tutti! Donno è un attaccato! Che ti quanto viene? Non è un attacco! Non c'è... Non ти non vieni ad essere? Non ma non vieni ad essere! 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 non il la pote il 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 Voi? Ma provo? Non c'e'va più arrivato? Sì perchè te lo chiede? Non c'eva più nulla. Non c'eva più nulla. Non c'eva più nulla. Non c'eva più nulla, Luca. Ha! C'eva più di me? Ma parola! Ma parola! C'eva più di me? Ma parola ragazzi? Poi c'era più di me? Grazie a tutti.